Il passato non è garanzia del futuro. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi andiamo a fare un rapido update sulle posizioni che abbiamo discusso qualche giorno fa di spread trading sulle materie prime, quindi commodity spread trading. E voglio farvi vedere come ovviamente si dice spesso quando il passato non è garanzia del futuro, che quindi quello che il backtesting di un asset o di un comportamento di un sottostante si è comportato nel passato non vuol dire che si comporterà allo stesso modo nel futuro. Ed è il caso di alcune operazioni che stiamo valutando. Vi ricordate che avevamo parlato di CT, cotone, cotone in vendita, due gambe a confronto spread trading, luglio e marzo, quindi si vende luglio e si compra marzo. Che cosa è successo? È successo questo, guardate, è successo che il prezzo subito dopo, come magicamente, subito dopo il giorno di entrata, questa era un'entrata short, guardate che cosa ha fatto, ha preso ed è schizzato per aria, esattamente dalla parte opposta di come si doveva comportare dal punto di vista della stagionalità. Bene, che cosa vuol dire? Vuol dire che se fossimo entrati il giorno dell'entrata, ecco perché io non entro mai quando me lo dice la stagionalità ma aspetto sempre un segnale, saremo in questo momento 1510 dollari in perdita, quindi una perdita insomma importante già, no? Ora, vi avevo detto che io avrei aspettato, avrei aspettato un piccolo segnale, avrei aspettato di raggiungere almeno quest'area qui, questa fascia qui di prezzo, in prossimità di che cosa? Dello zero, quindi siamo in una situazione di, in cui la differenza tra la gamba di, abbiamo detto, scusate non mi ricordo più i mesi, la gamba di luglio con la gamba di marzo, quindi la gamba più vicina meno la gamba più lontana sta dando una differenza prossima allo zero. E sapete già i concetti di backwardation e di contango, che cosa quindi questo vuol dire, se non lo sapete ragazzi andatevi a vedere i miei vecchi video, non posso ogni volta tornarci sopra ma non perché sono cattivo ma perché altrimenti ci mettiamo sempre troppo a fare i video. E quindi io sono effettivamente entrato con la mia prima operazione, con il mio primo contratto, perché qui l'idea per me è di entrare con due contratti, il primo contratto era quello di entrare intorno a questi valori qua, guardate, che li ho toccati. Quindi qui vedete che questi valori hanno nel passato agito come resistenza per il prezzo, vedete qua come resistenza, qui come supporto, qui come resistenza e oggi c'è arrivato proprio il prezzo di nuovo. Il secondo contratto, nel caso in cui mi continui a venire contro il prezzo, ho intenzione di entrare tra 0,5 e 0,70, quindi direi qui potrebbe essere questo un ingresso interessante a 0, eccolo qua. A questi valori qua, secondo contratto, vuol dire che se il prezzo da qui ragazzi mi andasse contro, per arrivare a questi valori io sarei in perdita di circa 400 dollari, che tra l'altro per il mio money management è una perdita assolutamente accettabile che mi posso permettere. Se il prezzo, voi potreste dirmi, Marco, ma se il prezzo poi da qui sopra dovesse continuare verso l'alto, chiudo in perdita l'operazione immediatamente, perché vuol dire che la stagionalità non sta agendo, e questo già l'abbiamo visto. Questi livelli di struttura non stanno agendo, siamo già in territorio negativo con il prezzo, se non gira, la stagionalità qui è bassa, è corta ragazzi la finestra, vedete, della stagionalità, quindi se il prezzo non gira chiudo l'operazione, mi porta a casa una perdita, non fa niente, le perdite sono, come vi dico sempre, il percorso fisiologico che ci porta poi al profitto seguendo le nostre regole, il nostro trading plan e le nostre strategie. E quindi qua siamo entrati, poi vi faccio vedere in macchina che effettivamente siamo entrati, e questo era il cotone. C'era un altro spread che avevamo analizzato, ed era il cacao, cacao sempre in vendita, con settembre e dicembre come gambe, quindi si vende settembre e si compra dicembre, e qui che cosa avevamo detto? Avevamo detto che, di nuovo, l'entrata era a questi valori qua, in short, il prezzo vedete che prima si è mossa a nostro favore e poi è tornato indietro. Bene, anche qui avevamo detto che io avrei aspettato il prezzo, l'avrei aspettato dirigersi intorno a queste strutture qua, vedete che qua sono state, metto questa linea tratteggiata, qui vedete che il prezzo ha sentito questi valori, e infatti proprio ieri il prezzo è tornato su questi valori e oggi sembra stia girando per ora. Quindi qua, dove sono entrato con i primi contratti, se dovesse il prezzo venirmi ancora contro, io vorrò ricomprarlo intorno a questi massimi qui sopra. Se mi viene contro da qui dove sono entrato a qui sopra, quant'è la perdita? Di 540 dollari a contratto, quindi vuol dire che se ce ne ho due di contratti sono 1000 dollari e così via. Che ovviamente, ripeto, rispetto al mio money management, ecco perché questi non sono consigli finanziari e nessuno deve copiarmi, ragazzi, perché voi non sapete qual è il mio capitale, qual è il mio profilo di rischio, qual è il mio money management, queste cose, non sapete quali sono le mie strategie, non sapete nulla di tutto questo, quindi copiarmi sarebbe veramente sciocco. Mi raccomando, non lo fate. Imparate invece dai ragionamenti che ci sono dietro. Questo tra l'altro era, questo del cacao, era uno spread che, diciamo dal punto di vista della profittabilità, vedete, aveva una prima perdita nel 2014, a meno 6,90 e una seconda perdita nel 2001 e poi nel 99, tutte piccoline le perdite, 700 dollari, 280, 110, quindi vediamo che qua effettivamente i drawdown non sono affatto ampi. Quindi, diciamo, non è uno spread tra quelli che io adoro, per cui ci andrò piuttosto cauto. Terzo spread era il LE, quindi LE, oggi, proprio questa mattina ha parlato di live kettle, ragazzi, abbiamo parlato insieme di come questa materia prima potrebbe essere ribassista, per motivi e aspetti fondamentali, abbiamo visto i report dell'USDA e anche altri articoli. Fatto sta che qua, se fossimo entrati, oggi saremo in perdita, perché vedete che il prezzo, siamo a metà stagionalità. Lo sapete qual è la cosa che mi piace? È che questa parte della stagionalità, quindi la parte, la seconda metà, circa il secondo 50%, è il momento in cui i prezzi, storicamente, vedete le linee delle medie, tendono a scendere. Quindi, adesso, la mia intenzione è quella, siamo arrivati ai prezzi a cui volevo entrare, perché la mia prima entrata era, c'era, valutavo questa prima entrata e poi valutavo questa seconda entrata. Vi dico la verità, visto i fondamentali di cui vi ho parlato prima, qui siamo sullo spread che vende dicembre e compra febbraio, ho aspettato un po' ad entrare e vorrei a questo punto entrare intorno a questi valori, quindi parliamo di meno circa 2,9. Ci siamo quasi arrivati, quindi adesso vediamo come si mette a mercato un ordine di tipo limit. E vi faccio vedere, torniamo sulla mia macchina, vi faccio vedere, guardate, poi ci sono, vi ricordate gli spread di cui abbiamo parlato? Cotone, cacao, soybean oil, olio di soia, ZL e live kettle. Eccoli qua, ci sono tutti e tre. I primi tre sono già dentro, sono già dentro e sono attualmente praticamente in profitto di nulla, meno 11 dollari su CT, cotone, meno 32 dollari sul cacao e sono a più 95 dollari su ZL. Ok? Vedete che sono entrato con il cotone, sono entrato con un contratto, due contratti per il cacao, 15 contratti con ZL, perché ZL ragazzi per il mio money management mi permette di entrare con più contratti. Bene, LE, LE voglio invece, quello che vi ho detto prima, voglio entrare a valori migliori. Quindi vi faccio vedere adesso il grafico, così vediamo come mettere insieme l'operazione, perché io qui voglio entrare, abbiamo detto, in CELL e voglio entrare intorno ai 2,9. Quindi questo è il prezzo a cui voglio entrare con il primo contratto. Quindi faccio clic su transmit, trasmetto e in questo modo quando il prezzo arriverà lì sopra mi verrà eseguito. Quindi non devo stare davanti a qua, ma posso aspettare. Vi faccio vedere che le altre operazioni mi sono entrate proprio in questo momento. Vedete qua mi è entrato il cotone, mi è entrato il cacao e qui ZL. E qui, vabbè, no, queste sono altre operazioni, ragazzi, ho chiuso ieri un'operazione sull'azionario, avevo le azioni di STML e ieri mi sono portato a casa un profitto, perché siamo arrivati a take profit, quindi mi sono portato a casa 4.500 dollari. Bene, ragazzi, direi che per oggi è tutto, abbiamo visto parecchie cose interessanti, abbiamo visto appunto come inserire un ordine pendente, abbiamo fatto un update sull'analisi che avevamo fatto sul prezzo dello spread trading. Spero che questi video vi siano utili dal punto di vista didattico e informativo. Un like se vi sono piaciuti, noi ci vediamo prestissimo, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Buon trading a tutti, ciao! Ciao!